È stato pubblicato il bando del programma di sviluppo rurale Abruzzo 2014-2020 sulle nuove adesioni ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. L'intervento prevede un contributo, a titolo d'incentivo, ai produttori che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità, come DOP e IGP. L'intervento ha una dotazione finanziaria di un milione di euro e prevede un sostegno per la prima iscrizione al sistema di qualità e un contributo annuo per il mantenimento di esso, esteso ai costi relativi alle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione. Domande entro il 25 agosto prossimo.